E' stato rinviato il passaggio di cantiere per i dipendenti del Consorzio di Bacino Salerno 2 con un incontro in Regione convocato per venerdì 10 maggio. La decisione nell'ultimo incontro negli uffici di Ecoambiente Salerno alla presenza del commissario liquidatore Vincenzo Petrosino e delle sigle sindacali. Oggetto del tavolo regionale sarà il passaggio di funzioni in attuazione della legge regionale 14 2016 e problematiche inerenti il personale dipendente dei consorsi in liquidazione. Pertanto si è deciso di attendere l'esito della riunione prima di procedere con il passaggio di cantiere, anche per questioni di pubblica sicurezza. Resta ovviamente alta l'attenzione dei lavoratori e dei sindacati.